Speriamo bene, mica speriamo di non trovare 31 gradi Tu che fai, te la guardi? Gregorio? Si sono Intanto penso che te ne vai No, no Greg, ora arrivo? Dai Grazie 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 a tutti. 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 Potevo fare meglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma perché sta cosa? No. Allora... Allora... Check the fuel... Check the fuel... One... 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 Two... One... Two... One... 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 Grazie a tutti. 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 Ti faccio... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buon giro. Buon giro. Grazie a tutti. a tutti. Buon giro. 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 Benzina, quanto ti sei chiamato? 24, 25 Speriamo che quello dietro di te non abbia fatto quel senso Ma non saprei guarda Non saprei guarda Non saprei guarda Buono come tempo Però se fai anche solo un decimo sotto Non saprei guarda Non saprei guarda Ti dicevo sta cosa del decimo Perché per coprirti dal quarto Perché più o meno il quarto sta girando esattamente con i te stessi tempo Sì, ma è lontano pure i cinque secondi Eh, però per quello qui ne hai il migliore Non saprei guarda E' un po' più piccolo il video, un po' più piccolo, un po' più piccolo. Pazzo 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 Pazzo